Il sindaco di Trapani ci tiene a sottolineare che, in seno all'ente luglio musicale trapanese, non è in corso alcuna guerra fredda e rimarca il fatto che lo stesso sia una società partecipata al 99% dal comune di Trapani e quindi come tale onerata di seguire procedure amministrative conseguenti a garanzia, tanto dell'ente quanto per ragioni di trasparenza e rispetto delle procedure onde assicurare stabilità e futuro. Le dimissioni di Ceccaroni dalla carica di amministratore delegato hanno comunque aperto un dibattito politico in città, proprio sul futuro e sulla stabilità del luglio. Ed è proprio sulle dimissioni dell'ex consigliere delegato che Tranchida si sofferma, spiegando che, ai primi di dicembre, si è tenuto un CDA durante il quale è stato dato espresso mandato al consigliere delegato Ceccaroni di predisporre il bando di concorso per il sovrintendente e per il nuovo direttore artistico. Evidentemente, il contesto in cui si è trovato ad operare l'ex consigliere delegato Ceccaroni, precisa il sindaco, non ha favorito tale ulteriore sforzo. Ma per Tranchida non tutto è perduto ed anzi assicura ai cultori delle attività del luglio che si sta provvedendo in via suppletiva avendo a cuore tanto le maestranze locali quanto il variegato mondo artistico e culturale che orbita torno a luglio. E poi, sulla proposta fatta al maestro Andrea Certa, direttore d'orchestra trapanese e perno della rinascita del luglio musicale guidato da Giovanni De Santis, il sindaco ci tiene a chiarire che nessuna lusinga è stata da lui assicurata al maestro Certa, prendendo invece pubblicamente atto in giunta e con non poca sorpresa degli astanti addirittura di una sorta di condizione inaccettabile, tanto nel merito quanto nel metodo. Si può anche dirigere da bravi musicisti un'orchestra, afferma Categorico Tranchida, ma avere la presunzione di alzar la bacchetta per dirigere l'operato di una pubblica amministrazione non è accettabile. Abbiamo chiesto opportuna replica al maestro Certa, il quale si dice basito di essere stato coinvolto in una diatriba politica che non mi appartiene, ma anche nell'apprendere di essere stato criminalizzato per avere rifiutato di accettare una direzione artistica che definirei burocratica. La stessa infatti, secondo quanto ci ha precisato Certa, era finalizzata solamente a redigere la domanda ministeriale per i finanziamenti pubblici, oltre che, sottolinea sempre Certa, a tradire il vincolo di lealtà nei confronti della squadra di professionisti che in questi anni ha risanato il luglio musicale, facendo rientrare la città di Trapani nei circuiti internazionali e nazionali dell'opera lirica. E non lesina infine una bacchettata. Sono un musicista che conosce la lealtà ed il rispetto e non un bacchettatore, come ingenerosamente sono stato definito dal sindaco.